Sulla faccenda dei tribunali minori a rischio chiusura c'è l'emendamento al Decreto Mille Proroghe depositato dai senatori di Fratelli d'Italia, Etel Sigismondi e Guido Liris. Il decreto appare ad oggi lo strumento giusto per affrontare il problema dei piccoli presidi di giustizia. L'emendamento al Decreto Mille Proroghe mira ad una proroga di tre anni della apertura dei tribunali con contestuale richiesta di riapertura delle piante organiche perché la presentazione di un emendamento? Perché evidentemente l'obiettivo di Fratelli d'Italia è quello di dare una stabilizzazione una risoluzione definitiva a questi quattro tribunali ma c'è bisogno di tempo e quindi per questo è il motivo della richiesta di una proroga di tre anni e non più annuale ma soprattutto la riapertura delle piante organiche perché nelle visite che abbiamo fatto all'inizio della legislatura gli incontri che si sono avuti presso i tribunali con i presidenti dei tribunali con i procuratori, con i rappresentanti degli ordini è emerso come molti tribunali quasi tutti hanno una carenza di personale soprattutto amministrativo che impedisce anche lo svolgimento di quelli che sono i servizi minimi. Ovviamente rispetto a quella che è una soluzione definitiva c'è un'importante presa di posizione del sottosegretario Andrea Del Mastro da sempre vicino alla nostra battaglia sul mantenimento dei tribunali di prossimità che ovviamente sancisce e definisce fallimentare quella che è stata la riforma Severino perché ha portato non soltanto a una riduzione dei presidi di legalità sul territorio non ha portato i risparmi previsti ma soprattutto ha impoverito quello che è il territorio di queste importanti risorse di presidi soprattutto per quanto riguarda le procure. Voglio ricordare che per quanto riguarda l'Abruzzo se dovessero essere soppresse e noi faremo di tutto perché questo non avvenga, tutta la zona sud, tutta la zona più a rischio di infiltrazione e si troverebbe senza questi importanti presidi di legalità e sicurezza. I tribunali in questione sono Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto. La soppressione fu decisa nel 2010 dal governo Monti con la legge Severino. Anche il sottosegretario Del Mastro ha preso un'importante presa di posizione in merito che da forza a questa battaglia è intrapresa.